Tac, 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 vai, provate. No, io non mangio con la forchetta. Provate. Se volete, di là. Che l'hanno rubato il bighi. Più o meno, bravi. Brava, Vito! Vito, figurati, per mangiare proprio c'ha l'istinto di... No. Bata, bata! Ehi, vieni qua, Leon. Vittoria! Leone e Vittoria, tutti e due. Guardate che Babbo Natale vi guarda. Guarda, guarda. Vieni un'altra torta, vai. E' piano, piano, amore, piano, patata, piano, 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 oh, mio Dio, Vito, noio! Brava, Vito, brava, Vito. Bravi. Tutte e due. Tutte e due le ha fatto la mamma. Guarda che vuole la torta. E' proprio la cosa che non puoi mangiare. Leo, vieni! Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Auguri, auguri! Non si spengono! Amici, grazie a tutti per gli auguri. E vabbè. Allora, oggi è una giornata importante, non tanto per il mio compleanno, non mi interessa. Ho fatto gli esami del sangue, l'emocromo. Il sangue è ok e i dottori mi hanno dato il permesso di volare a Manchester per il concerto dei Blink 182. Bimbo felice. Sono troppo contento, per la prima volta conoscerò Tom, perché Travis e Mark li conosco già. Gli ho preso dei libri sugli alieni di Mauro Biglino. Poi ho preso tutti dei prodotti tipici italiani da portare a tutti e tre. Non chiaro se si possono portare. Non lo so se si possono portare, però ho preparato un sacco di regali da portarli. E sono molto gasato. Sono molto, molto, molto gasato. Solo chi è fan dei Blink può capire, ma sono veramente molto gasato. Manchester, arriviamo! C'è un'altra Yeah! Grazie. Grazie. Grazie a te, tanti auguri a te, tanti auguri a papà, tanti auguri a te. Auguri! Grazie.